Vandalinazione presumibilmente tra sabato e domenica nelle campagne dimagre ignoti hanno tagliato circa 550 piante di mele. Le immagini mostrano l'atto vandalico compiuto nel cuore della notte ai danni del proprietario del terreno Günther Pedron. Ad accorgersi dell'accaduto lo stesso contadino rimasto decisamente sorpreso incredulo di quanto avvenuto. Ingenti danni che ammontano ad una prima stima 20.000 euro. Al proprietario dei meletti non è restato altro che denunciare l'atto vandalico ai carabinieri. Al momento restano ignote le cause e non si esclude alcune ipotesi. Ma qua hanno tagliato circa 550 piante al signor Pedron Günther. Non si sa preciso sul sabato e domenica di notte, non si sa preciso e hanno fatto un danno di migliaia di euro. Hanno proprio tagliato con una forbice il tronco delle piante. Un danno così non si fa proprio. In paese in queste ore non si fa altro che parlare del grave fatto di cronaca avvenuto ai danni del malcapitato Günther Pedron. La speranza di tutti è che il deplorevole atto non si ripeta in futuro.